In occasione della giornata di chiusura del 104esimo congresso nazionale della Società Italiana di Fisica, presieduta da Luisa Cifarelli, l'Università della Calabria ha ospitato una tavola rotonda su terremoti e tsunami, nella quale alcuni tra i maggiori esperti della materia si sono confrontati sugli episodi del passato e sui rischi del futuro. Aperto dai saluti e dalla relazione del vettore Gino Crisci e moderato dal giornalista Marco Cattaneo, direttore di Le Scienze e National Geographic, l'appuntamento ha registrato l'intervento di Carlo Meletti e Alessandro Amato, membri del Centro di Pericolosità Sismica e del Centro Levita Tsunami dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prevenzione è la parola d'ordine. Il paese deve essere sempre preparato, il rischio sismico purtroppo per il nostro territorio è un rischio molto presente. Non solo il terremoto ma anche lo tsunami è tra le catastrofi che potrebbero abbattersi in Calabria. due i precedenti della storia, febbraio del 1783 con 26.000 vittime e quello più noto di Reggio e Messina del 1908 con oltre 100.000 morti. È un rischio anche quello presente per le nostre coste, pur essendo un rischio che ha una più remota probabilità rispetto ad altri tipi di eventi. Anche da questo punto di vista dobbiamo preservare le nostre coste e i nostri cittadini esposti a questo tipo di rischio. Abbiamo 7.000 km di costa, oltre 600 comuni e chiaramente le regioni del sud, la Calabria, la Sicilia, sono anche quelle più esposte a questo tipo di rischio. Salvatore Bruno per la CNews24